La protesta oggi davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco a Catania. Sono da sette mesi senza buoni pasto, inoltre lamentano gravi carenze e chiedono anche il ripristino del SOT, la sezione operativa terremoti, fiore all'occhiello per la Sicilia. Catania e le assunzioni anche è un aumento inorganico. Sentiamo i dettagli. Da sette mesi i Vigili del Fuoco di Catania attendono i buoni pasto. Un non paradosso, come viene definito dagli esponenti, è il sindacato USB che stamattina hanno deciso di dare vita a un sit-in proprio davanti alla sede della caserma di Catania. Le altre regioni della protesta però riguardano questioni molto pratiche e molto sentite, come ripristino del SOT, la sezione operativa terremoti, l'ex fiore all'occhiello per la Sicilia e per Catania, che negli anni è stato smantellato e non ha più le attrezzature idonee. E poi ancora le assunzioni all'aumento di organico, 500 le persone che servirebbero in tutta la Sicilia. L'USB chiede anche l'apertura di Roccalumera e palagonia fondamentali per il territorio. Per protesta abbiamo messo qui il pendolino per offrire ai colleghi un basso caldo, visto che l'amministrazione non si sta premurando a dare le spettanze ai colleghi. Oltre a questo vogliamo che in Sicilia si riattivi la sezione operativa terremoti, che ormai non esiste più, mancano le attrezzature e quelle che c'erano dei carri crolli e ormai sono in disuso. Noi vogliamo che vengano ripristinate, le emergenze si succedono, la Sicilia è stata colpita, ma Catania soprattutto. Il distaccamento di palagonia che doveva essere consegnato a breve allo stato attuale potrebbe rimanere un'incompiuta. La stessa cosa per Roccalumera e Messina. Noi vogliamo che questa spending review incondizionata sui vigili del fuoco finisca, che assumano i precari, che assumano gli doni e i concorsi per far ripartire il soccorso, per colmare il gap europeo che c'è sulle carenze di organico, un vigile del fuoco ogni mila abitanti. Tramite l'assunzione tutto questo potrebbe essere rimpinguato. La stessa cosa per i mezzi di servizio. Ormai i vecchi devono essere rimpinguati anche questi. Noi diciamo basta tutto questo, vogliamo che finisca questo scempio.